ci arriviamo ma ragazzi vuole accettare la morte la sfizione è anche lontana, sì, vai più lontani, più lontani dovevamo andare veramente, cioè, incredibile la cosa, vado però, dai, ho attivato la macchina mi bagliava la Tomadotta io c'ho la lupata se c'ho la lupata eh, Fernando sicuramente ha capito vado 3 kg, ma è una strage wow, un bello banca grazie, grazie ti ho pagato tanto, ti ho pagato tanto immagino no, non c'è niente qua immagino quanto vale l'assicurazione peccato e bollo ma, eh, dove stiamo andando? no, no, scusa ma, no, ma quanto vuoi fare una buona хочу andare prima è ancora guarda fum, fum, fum è Allora ragazzi ci vediamo, è stato un piacere Chi vuole entrare con me? Eh ma no Let's go, let's go Ma perché va così? Eh questo perché mi deve prendere la mano Ma perché va così? Ma che problemi c'ha questa macchina? Guarda, vengo a prenderti io Guarda, ma lo vedi? Fernando, ma che problemi c'ha questa macchina? È buggata Questo perché ci vede la scelta? Guarda tu, guarda tu, guarda tu Ma perché non lo sia il turbo? Ma no, non ce la faccio Venga a prenderti, venga a prenderti Io qua sto stendo in montagna, in montagna E non so neanche l'ho Fin di vita Ho solo da prenderti Vado a prenderti io, Fernando Vabbè, qua gli ho trovato la macchina Aspetti, vengo a prenderti io No vabbè Non ti preoccupare Fammi sapere se devo venire Vengo Vengo? No, no, no Ok Vado, sta macchina va non lenta di più Ho ancora, ti cura Ah Ti ho sto figlio di puttana Ok Vado 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 a curarti Vado a prenderti 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 Guarda dove stai Vespa Vado a prenderti 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 sono qua madonna santa però c'è un team via 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 scendi arriviamo arriviamo sono qua sono qua non sono meno io come sto sopravvivendo ma sono morti curati tutti sono morti ma sono morti aspetta ma come cazzo stiamo vivendo scusate un attimo 8 kg sì però cosa prendo a fuoco che cazzo di partite è un attimo lasciate qualcosa ah meno male che questo aveva il medit gigante ma non ti ha fatto esplodere il coso comunque è stato tu fernando perché io l'ho gettata una granata non vuole che fossi che sia stato qualche non so ma io ho passaggio bravo fernando grazie sentite eravamo morti non mi sta registrando ma dove stando? scendi carmen aspetta aspetta ah 60 non c'è l'aidero lo scendio esce aspetta amore ah su ragazzi andiamo in safe andiamo in safe andiamo in safe in safe dai ragazzi mi andiamo ancora 3 no aspetta no 4 No, non cazzo di cinque. Molto bravo. Oddio ciò un cecchino. Dupo avanzare. Cieronti. Dai, 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 dai. Strat. Moitevi, moitevi. Moitevi. Oh, questo uno è sopra. Ah, ma non so nemmeno io come sto vivendo. Uno l'ho abbattuto. Quasi. Oh, cazzo. Se sono da me questo qui, sono da 10 penso io. Sono da 10, sono da 10. Ah, mi sta sparando. Ma no, raga, aiuto. Ma io non ci sto capendo più. Non so nemmeno come mi sto coprendo. Tre persone. Ma dove cazzo sta questo? Non lo so. L'ho visti. Stavo al fuori dietro di me. Qui, qui, qui dietro, qui dietro. Sto venendo, aspettate. Sto venendo. Aspettate, non morisco. Stiamo calmi. Ah, avevo uno solo. Manca uno, manca uno. Ma dove sta? Scusate. Dove sta? Scusate quest'ultimo. Boh. Non se non ci sta. Come vuoi cercare io? Mi sa che qui dentro la scuola. Non è che sta qui dentro. Non è che sta qui dentro. Chetta cì. No, non c'è. Allora sta qua sopra per forza. nascondino as per trovato Non è registrato.